Inter-Lazio, i dubbi di ecco le possibili scelte. Pormello occhi puntati su Ciro Immobile, pronto a tornare al centro della Lazio. Dal primo minuto, a San Siro contro l'Inter. Il bomber dopo l'incidente del 16 aprile ha ritrovato minuti nell'ultimo turno contro il Torino. Le ultime prove tattiche lanciano segnali incoraggianti, Ciro in mezzo al tridente con Saccagni e Felipe Anderson. Pedro l'alternativa per cambiare l'attacco. Sarri e la difesa a centrocampo nessun dubbio con il rientro di Cataldi in regia dopo il turno di squalifica. Ai suoi lati ci sono gli intoccabili Milinkovic e Luisa Alberto. L'unico dubbio di Sarri riguarda il centrale di difesa. Ballottaggio tra Casale e Patrick, anche se l'ex Verona sembra in vantaggio per fare coppia con Romagnoli. Sulle corsie toccherà sempre a Marusi Keisai. Virgola. Grazie. 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 Grazie.